Benvenuti al Tg della Nuova Calabria, in questa edizione parleremo dell'attesa per il derby di Cosenza e Catanzaro con il consueto punto di Antonio Argentieri Piuma, poi una mareggiata che c'è stata sulla costa del Catanzarese e che ha provocato dei danni a degli immobili, però partiamo dalla cronaca, è stata fatta luce sul rogo di alcuni capannoni nella zona industriale di Graffa in provincia di Catanzaro, fin dall'inizio si sospettava l'origine dolosa dell'incendio e finalmente sono stati scoperti anche gli autori e i moventi, tutto questo nel servizio di Paolo Cristofano. Un intero capannone dato alle fiamme, danneggiamenti gravi a varie aziende con sede all'interno dello stesso. Ora la procura di Catanzaro ha fatto luce su quelle dinamiche che nel novembre 2023 hanno fatto scattare le indagini degli inquirenti e che ruotano intorno all'area industriale di Caraffa di Catanzaro. I carabinieri della compagnia di Girifalco, competenti sulla zona di Caraffa, hanno eseguito la misura cautelare, siglata dal giudice per le indagini preliminari, Gilda Danila Romano, a carico di due presunti responsabili del rogo. Si tratta di Antonio Infusino e Francesco Giannini. Il movente dell'incendio sarebbe stato, secondo le indagini, l'incasso del premio assicurativo, sull'azienda della quale è titolare Infusino. Il contratto d'assicurazione era stato stipulato con la Gruppama. L'incendio, infatti, è partito proprio dalla Inca SRL, un'agenzia funebre, propagandosi poi sugli altri 1500 metri quadrati circa dell'intero capannone, danneggiando almeno cinque aziende, con sede attigua a quella della Inca SRL. Insieme ai due soggetti ai quali è stata applicata la misura cautelare in carcere, risultano altri due indagati nell'inchiesta, Giannini Salvatore e Criniti Domenico. I provvedimenti cautelari emessi su richiesta della locale procura scaturiscono da una complessa indagine che ha preso avvio proprio dopo il devastante rogo del capannone nel novembre 2023. Cambiamo argomento, però restiamo in tema di cronaca giudiziaria. È stato assolto per non aver commesso il fatto, così la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato innocente l'Avvocato Armando Veneto, ex deputato e parlamentare europeo, che era stato condannato in primo grado con l'accusa di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti dell'ex giudice del Tribunale del Riesame, Giancarlo Giusti. Quindi è arrivata in secondo grado la soluzione per Armando Veneto. Adesso cambiamo argomento. Nella notte tra giovedì e venerdì c'è stata una mareggiata nella zona marina di Simeri Cricchi e purtroppo ci sono stati pesanti danni. Vediamo tutto, vediamo le immagini soprattutto nel servizio di Filippo Coppoletta. Stacionate e terrazze distrutte, verande di velte, ingenti danni ad un lido. È lo scenario che si presenta dopo la mareggiata abbattutasi sulla zona costiera del comune di Simeri Cricchi nel Catanzarese nella notte tra giovedì e venerdì. Onde alte oltre tre metri, quelle che hanno violentemente impattato contro qualunque cosa, si trovassero dinanzi, trascinando via con loro pavimentazioni, mura, recinzioni e quanto lasciato nei locali delle abitazioni maggiormente esposte alla spiaggia. Da ieri sera il centro operativo comunale e l'ufficio tecnico hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area, transennando un tratto di strada eroso dal mare non più praticabile. Le case sono fortunatamente disabitate nella stagione invernale ma in tanti sono tornati per verificare l'entità dei danni. Nella tarda mattinata raggiunge il posto anche il sindaco del paese Davide Zicchinella accompagnato dal consigliere commisso. Passa tra le abitazioni devastate dalla potenza del mare e prende contezza della situazione predisponendo gli interventi del caso. Già nei giorni precedenti in previsione quando abbiamo avuto dei dati del mare un po' preoccupanti abbiamo utilizzato quelli che erano in mezzo a nostra disposizione per cercare di creare una barriera a protezione delle case che in parte ha tenuto, però poi il mare come si vede ancora adesso è così grosso che ha scavalcato la nostra protezione. diciamo così. Già ieri sera abbiamo transendato questo pezzo di strada che non è più praticabile e stamattina l'ufficio tecnico ha già preparato la relazione che ci metterà in condizione lunedì di preparare un piano di interventi da proporre alla regione Calabria per chiedere un sostegno economico per la messa in sicurezza di questa parte di costa di Sime di Criche, una parte che riguarda la località Umo Morto. Le altre due località non sono state a dire il vero toccate da questa importante mareggiata. Il grazie del primo cittadino agli uffici comunali per il lavoro svolto in queste ore, guardando con preoccupazione a possibile ulteriori ondate di maltempo nei prossimi giorni. Il mare è ancora in grosso, d'altra parte in queste condizioni noi possiamo fare ben poco, quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo solamente capire quali interventi saranno necessari, prima a protezione dell'avviabilità della costa e poi per far sì che ci sia un nuovo insabbiamento per riprendere quella parte di spiaggia che è stata in osso. Adesso passiamo allo sport, manca poco e cresce sempre di più l'attesa per il derby Cosenza-Catanzaro, ci fa il punto a pochi giorni dal match a Cosenza, Antonio Argentieri-Piuma. Oggi al Poligevino per il Catanzaro di Mister Vivarini in vista di questo derby tanto atteso che si giocherà domenica prossima alle 16.15 al San Vito Marullo. Si preannuncia una grande cornice di pubblico e con lo stadio praticamente cremito in ogni ordine di posto, circa 18.000 persone e da Catanzaro stanno allestendo carovane di pullman. Insomma tanta attesa, tanta trepidazione per questa partita che comunque si preannuncia una bellissima partita tra due squadre che arriveranno in modo diverso, il Catanzaro in grande slancio dopo due vittorie consecutive e una serie di prestazioni positive e poi il Cosenza invece con qualche momento diverso, sta attraversando un momento diverso ma comunque rimane, resta una squadra importante che sta facendo il suo campionato. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo sempre di seguire gli aggiornamenti sulla Nuova Calabria, sul sito della Nuova Calabria, tutte le notizie della Calabria e da Catanzaro in particolare e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG della Nuova Calabria. Grazie a tutti! Grazie a tutti.